E' una delle opere più attese che, nelle intenzioni di chi ha amministrato Salerno nell'ultimo ventennio, dovrà cambiare il destino della città domani alle 17. Sarà ufficialmente inaugurata Piazza della Libertà, la gora realizzata dinanzi al Crescent nella zona del Lungomare. Al taglio del nastro ci sarà anche il governatore Vincenzo De Luca, che all'epoca in cui era sindaco di Salerno gettò le basi per la realizzazione della piazza. Un capolavoro meraviglioso che dà vivibilità e creerà economia e lavoro secondo il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, che con un posto ha presentato Piazza della Libertà, definendola la piazza di tutti i salernitani. Ma l'opera, anche a poche ore dall'inaugurazione, continua a dividere la politica cittadina. Ci troviamo di fronte ad una piazza, ad una lastra di cemento, costata oltre 70 milioni di euro di soldi pubblici e loro invece di mettere la testa sotto la sabbia della spiaggia di Santa Teresa vogliono festeggiare. Siamo in una città integrato, con un'amministrazione fallimentare, che tenda con queste inaugurazioni, con questi spot pagati ovviamente dai cittadini, di gettare fumo negli occhi e di recuperare un consenso che stanno perdendo perché la gente si sta svegliando, si sta rendendo conto. Polemiche che hanno finito per coinvolgere anche la festa patronale martedì, infatti il pontificale di San Matteo sarà celebrato in Piazza della Libertà. Riteniamo che si tratti di una vergognosa strumentalizzazione, quella di martedì, ma in ogni caso parteciperemo alla manifestazione religiosa, non a quella civile, perché noi vogliamo onorare il santo, siamo legati a questa città.